La professa, hai idea di cosa sia? Cosa sto guardando? Non lo so. Somiglia agli squarci delle altre zone focolaio, ma è più vibrante. Più bello. Più bello. Più bello. Più bello. Più bello. Si, prendo una pistola. Più bello. Più bello. Più bello. Più bello. squadra d'assalto ho un elicottero pronto a estrarvi usatelo se volete riorganizzarvi voglio le loro armi i 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